Finisce senza reti l'attesa sfida tutta romagnola tra il Forlì e la capolista Ravenna al Morgagni nel Gironedì di Serie D. La prima occasione è Biancorossa con Prestianni che al quinto vede il suo tapina ribattuto sulla linea di porta da esposito. Al quarto d'ora si vede il Ravenna con il pallonetto di Tirelli che finisce alto sopra la traversa di Poco. Intorno alla mezz'ora Forlì pericoloso con un tiro a giro di Greselin respinto da Cordaro. Nella ripresa altre due grosse occasioni per i padroni di casa. Prima Casadio calcia in porta a botta sicura Cordaro in tuffo respinge sul palo e poi da un calcio di punizione Drudi calcia da due passi ma ancora il portiere Ravennate sventa la minaccia. A sette minuti dal novantesimo il Ravenna resta in dieci per l'espulsione di Nappello dopo qualche parola di troppo verso il direttore di gara ma il forcing finale del Forlì non produce gli effetti sperati e il triplice fischio sancisce lo 0-0 finale.